Nel luglio del 1969 Paolo VI aveva affidato ai due astronauti Engstrom e Aldrin il testo del Salmo 8 perché fosse consegnato agli spazi siderali, alle sabbie lunari anzi, che di lì a poco questi astronauti avrebbero calpestato. In quell'occasione ci furono alcuni che polemizzarono per questo gesto. Tra costoro ci fu soprattutto quello scrittore che è difficile da definire apocalittico o qualche volta persino apparentemente nichilista come Guido Ceronetti che nella sua opera Difesa della Luna reagì considerando questo atto una dissacrazione del Salmo e una dissacrazione anche del Cosmo. Noi cominciamo il nostro itinerario nel tema che ci siamo prefissi proprio con questo inno, frutto certamente di un autore sofisticato, raffinato, un canto entusiastico, potremmo dire, nei confronti dell'uomo, una creatura microscopica, dice il salmista se comparata alle colossali strutture celesti, vera e propria, potremmo dire usando una celebre espressione fin abusata di Pascal, vera e propria, canna fragile, eppure dice il salmista come vedremo tra poco nel testo coronato come un sovrano da Dio che l'ha reso di poco inferiore a lui stesso. Anche nel primo coro dell'Antigone abbiamo una bellissima esclamazione, un'esclamazione stupita che in questo caso riflette invece l'ammirazione del mondo greco per la capacità dell'uomo, dell'uomo soprattutto che vive l'esperienza del pensiero. Nell'Antigone di Sofocle abbiamo «Molte sono le cose mirabili, ma nessuna è più mirabile dell'uomo». Ascoltiamo perciò questo salmo che vogliamo porre in apertura a questo ciclo di lezioni, di letture bibliche, che dedichiamo all'antropologia biblica, cioè al ritratto della figura dell'uomo, così come la rivelazione ebraico-cristiana, la rivelazione biblica lo illumina. Io vi leggo una lettura, una traduzione abbastanza vicino all'originale, una traduzione che appunto ho fatto io, che è diversa in alcuni punti, come vedrete, rispetto al testo della CEI che voi avrete tra le mani. Si tratta alcune volte anche delle opzioni di tipo esegetico. Alcune di queste opzioni, di queste scelte, hanno anche un certo significato. «O Adonai, Signore, nostro Signore, quanto è glorioso il Tuo nome su tutta la terra! La Tua maestà io vorrei cantare lassù nei cieli, balbettando come fanciullo e lattante. Hai gettato le basi di un baluardo a causa dei Tuoi oppositori per ridurre al silenzio il nemico e il vendicatore. Quando guardo il Tuo cielo, opera delle Tue dita, la luna e gli astri che Tu hai fissato, cos'è mai l'uomo perché te ne ricordi e l'essere umano perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno di un Dio. L'hai coronato di gloria e di magnificenza. L'hai reso, Signore, sull'opera delle Tue mani. Tutto hai posto sotto i Suoi piedi, tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della steppa, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quanto solca le vie delle acque. O Adonai, nostro Signore, quant'è glorioso il Tuo nome su tutta la terra. Non vogliamo, naturalmente, fare l'esegesi di questo testo. Vogliamo soltanto, che meriterebbe, peraltro, una lettura molto accurata perché, ho detto, è una pagina innica, per molti versi sofisticata, di non semplice lettura. In qualche punto, anche, persino, è un testo oscuro. Ecco, abbiamo, al centro, indubbiamente, la debolezza dell'uomo. Malato e fatto di terra. Come dicono i termini ebraici del versetto 5, per definirlo. C'è, per esempio, il termine Enosh, che indica qualcosa di debole. La radice di questo vocabolo, che indica uomo, anche. Nell'avvio, qualcosa di fragile. Evidente questa debolezza, non solo se confrontata con la solidità possente delle costellazioni. L'avete sentito? Opera delle dita divine. Finissima questa interpretazione del modulo che di solito si usa, il modulo normale, lo stereotipo, è opera delle mani di Dio. E invece questa immensa distesa di stelle che costituiscono quasi come nel grande ricamo di Dio nella notte, nella volta celeste, sono frutto del lavoro delicato delle dita di Dio, nonostante la loro immensità, nonostante la loro potenza. Anzi, si potrebbe anche pensare al lavoro di un cesello quasi, non soltanto di un ricamo. Ma soprattutto l'uomo risulta misero, minimo, debole, malato, se confrontato con un altro vertice di questo ideale triangolo di comparazione, e cioè Dio stesso, il creatore. Eppure, continua il Salmo, Dio, quasi ignorando il resto del cosmo, si ricorda e si cura con tenerezza dell'uomo, coronandolo col diadema della regalità. E il dominio dell'uomo è subito descritto, come vedete, nei versetti 7-9, che sono martellati, io l'ho fatto anche nella mia lettura, sono continuamente martellati dall'aggettivo tutto. La totalità del creato è affidato nelle mani dell'uomo. Non è però un dominio conquistato, vedete, dalle capacità personali dell'uomo, come proporrà per esempio anche l'umanesimo rinascimentale, forse anche, diremmo, quello illuministico, quello ateo soprattutto. Né un potere che è stato usurpato dall'uomo attraverso una lotta o una prevaricazione, una prevalenza su Dio, come insegnava per esempio il mito greco di Promete, o colui che scala i cieli per sostituirsi quasi a Dio. E neppure è la celebrazione, vedete, panteistica, quasi di un uomo in cui è stato posto lo spirito infinito e assoluto di tutto il creato. È un dominio invece donato da Dio, concesso in amministrazione, dall'unico che può essere, che può definire l'universo opera delle mie dita. Ecco, il Signore è perciò colui che affida all'uomo la funzione di essere il vicere dell'universo. La sua signoria viene data, viene delegata all'uomo. Ed è per questo motivo che io ho tradotto, non come in teoria sarebbe pure possibile nel linguaggio biblico, che tu l'hai fatto di poco inferiore agli angeli. Elohim, è vero, nella Bibbia può anche indicare gli angeli, ma in questo caso, proprio per il triangolo della comparazione, è Dio in comparazione. E allora capite lo stupore di questo poeta il quale celebra l'uomo nella sua grandezza al punto tale da vederlo un gradino soltanto inferiore a Dio. è il suo visir, cioè è colui che ha il potere delicato su tutto il creato. Un potere delicato però perché l'uomo lo esercita purtroppo tante volte in una maniera tirannica. E Giobbe stesso nel suo libro farà una specie di parodia quasi del Salmo 8 guardando invece l'uomo da un'altra angolatura. Un'angolatura che anche noi dovremmo scoprire a un certo momento che è paradossalmente antitetica rispetto a questa celebrazione umanistica questa del Salmo 8 una celebrazione così entusiastica. Infatti leggiamo nel capitolo settimo di Giobbe nei versetti 17-18 queste parole Ma che cose mai l'uomo sentite la stessa domanda del Salmo 8 perché tu ne faccia tanto conto e lo scruti con attenzione al punto da ispezionarlo fin dal mattino e da esaminarlo ogni istante? Capite che la domanda qui è proprio all'antipodo ma perché ti interessi così tanto di questo moscerino dell'essere? Di questa realtà così insignificante? E anzi se andiamo avanti poi e lo vedremo a suo tempo di questa realtà che porta in sé la stimata del limite della ferita del nulla la piaga della sofferenza e alla fine il sigillo della morte e per questo motivo che la lettera agli ebrei curiosamente come sapete quando abbiamo letto la lettera ebrei abbiamo avuto occasione di sottolineare questo aspetto proprio in apertura nei primi due capitoli cita il Salmo 8 ma lo cita non più applicandolo all'uomo questa figura che è al centro del Salmo per l'autore di questa splendida omelia che la lettera agli ebrei questa omelia cristiana delle origini è ormai non più l'uomo ma è l'uomo per eccellenza l'uomo salvatore Cristo Signore Gesù Cristo è colui che può veramente mettere in pratica il Salmo 8 perché egli è sovrano di tutto l'essere non nella prevaricazione di un tiranno bensì nell'atto d'amore di colui che si china su tutte le sue creature ecco abbiamo messo questo Salmo perché in apertura l'abbiamo messo perché io avrei voluto soprattutto che si creasse una convinzione primaria dalla quale non dobbiamo più schiodarci l'uomo nella Bibbia è importantissimo anzi è capitale e è talmente capitale che la Bibbia contrariamente all'opinione comune non è soltanto il libro di Dio tanti scandali che si hanno nei confronti dell'Antico Testamento per esempio sono proprio legati a questo fatto che non si bada alla concezione della rivelazione biblica come una rivelazione dialogica nella quale non c'è un Dio solitario isolato nell'aureola luminosa della sua perfezione divina imperatore impassibile nella sua eternità nella sua infinità ma c'è un Dio che continuamente dopo aver creato l'uomo lo considera il suo interlocutore e lo mette nella scena della rivelazione come il suo partner il suo compagno di strada ed è per questo motivo che l'uomo reagisce ed è presente nella Bibbia è presente indubbiamente tante volte anche col suo male col suo peccato sarà uno dei temi che dovremmo sviluppare il limite a cui ho già fatto cenno ma è presente anche con la sua grandezza è presente con la sua fede ma non vi siete mai chiesti perché nell'interno di un testo che noi chiamiamo parola di Dio ci debbano essere i salmi i salmi non sono parola di Dio strettamente parlando non sono forse invocazioni dell'uomo perché è preghiere la preghiera è l'invocazione della creatura che si rivolge al creatore al suo signore ecco in questa luce allora dobbiamo dire che parlare dell'antropologia parlare dell'uomo vuol dire parlare anche di Dio vuol dire parlare in maniera compiuta e completa della rivelazione che non è un soliloquio di Dio ma è un dialogo che non è una presenza incombente ed esclusiva di una parola trascendente che cancella tutte le nostre parole anche le nostre parole ci sono belle e misere grandiose e deboli simili alcune volte alle parole stesse di Dio nella loro efficace potenza e tante altre volte come dice il profeta Isaia simile al sospiro di uno spettro di un fantasma di una creatura che è immersa nella polvere quest'oggi il tema che dovremmo considerare è stato posto sotto un titolo per una teologia del corpo dobbiamo parlare del corpo e perché partiamo da qui ma partiamo per una ragione molto semplice io vorrei arrivare a costruire questo ideale ritratto nelle quattro lezioni che abbiamo a disposizione vorrei costruirlo partendo dall'esterno cominciando dalla pelle dalla superficie e poi entrando lentamente nell'interno del mistero dell'uomo di quell'intreccio misterioso che si annida nel cuore dell'uomo ebbene se noi guardiamo dall'esterno abbiamo certamente nella Bibbia un peso straordinario attribuito al corpo un peso che per essere studiato richiederebbe veramente un corso intero non soltanto questa breve lezione che facciamo ora tempo fa una persona qui di Milano tra l'altro mi ha regalato un trittico di saggi che erano stati pubblicati negli anni sessanta in francese che non erano quasi più reperibili e che questa persona possedeva scritti tre scritti tre saggi di un autore francese Daniel Liss il quale aveva intitolato le sue opere le tre opere proprio con i tre vocaboli fondamentali che descrivono la corporeità nella Bibbia la corporeità nella sua complessità come avremo occasione adesso di dimostrare tre elementi che non sono neppure tutti gli elementi è curioso che una lingua così povera come l'ebraico 5.750 vocaboli si preoccupi però di definire accuratamente tutte le parti del corpo umano alcune volte anche cercando di trovare vocaboli diversi per esprimere la stessa realtà i tre termini fondamentali erano nel titolo di questi tre saggi di questi tre studi prima di tutto basar la chair dans l'ancien testament cioè la carne basar la carne poi il secondo volume era ruach le souffle dans l'ancien testament cioè il soffio il respiro poi vedremo che cos'è ruach lo spirito e terzo nefesh histoire de l'homme dans la rivelazione d'israël storia dell'anima nella rivelazione d'israël l'anima anche se questa traduzione è discutibile è perlomeno incompleta ecco come vedete ci sono già tre componenti abbiamo letto carne spirito anima diciamo così per ora tre elementi diversi ma se andiamo avanti dovremmo anche allegare tanti altri termini che definiscono il corpo per esempio ne allego subito un altro il sangue levitico 17 terzo libro della bibbia versetti 11 e 14 la vita della carne dell'uomo è il sangue 14 la vita di ogni essere vivente è il suo sangue che vuol dire che esiste già un'altra componente il sangue che non è considerato semplicemente come una componente fisiologica ma qualcosa di più se è la vita ancora abbiamo avuto occasione di ricordare questo termine durante i nostri lunghi viaggi ormai nell'interno delle scritture in Genesi 2 7 quando si descrive la creazione dell'uomo si dice che l'uomo si è materia è legato alla polvere della terra però riceve da dio una nishmat haim cioè di solito si traduce un alito di vita in realtà questa nishmat haim è qualcosa di molto più sottile molto più specifico dell'uomo non l'hanno gli animali mentre lo spirito e l'anima l'hanno anche gli animali per la bibbia perché spirito e anima come subito diremo sono realtà diverse da come le concepiamo noi attraverso il filtro della cultura greca o anche della nostra cultura popolare per la quale l'anima è la parte spirituale per eccellenza rispetto al corpo che è la parte materiale ebbene questa nishmat haim è definita in proverbi 20-27 nel libro dei proverbi al capitolo ventesimo nel versetto ventisettesimo badate bene questa definizione molto pomposa se si vuole molto orientata molto colorita l'anishmat haim dell'uomo è una fiaccola una lampada del signore che scruta i recessi segreti del cuore voi capite che con questa espressione noi abbiamo la definizione di qualcosa che dovremmo piuttosto comparare con la coscienza che scruta letteralmente in ebraico si dice le camere oscure del cuore cioè del ventre persino cioè che entra in profondità dove si annida quel groviglio di miserie e di grandezze che costituiscono il segreto del nostro intimo quindi vedete che dovremmo piuttosto intendere qualcosa molto simile all'autocoscienza il potere di conoscersi e di giudicarsi e questo è caratteristico dell'uomo tra l'altro questo vocabolo è usato soltanto per l'uomo e per Dio sono gli unici che hanno l'autocoscienza nella visione biblica quindi l'uomo ha qualcosa di più ecco a questo punto se raccogliamo un po' questi elementi potremmo dire grosso modo così che il corpo dell'uomo nella sua totalità è visto come un intreccio inestricabile di tante dimensioni che non possono essere considerate a parte ma che costituiscono in maniera compatta quella che noi diremmo più che la creatura umana la persona il corpo per la Bibbia è l'epifania dell'io ed è vero anche questo per molti versi però voi vedete che in questa prospettiva adesso io vi farò degli esempi dei paralleli con la cultura greca in questa prospettiva la corporeità e lo vedremo subito dopo anche nel Nuovo Testamento acquista un significato particolare non è un appendice non è una questione marginale che bisogna flagellare eventualmente o adorare idolatrare in un contesto culturale per esempio come il nostro dove il corpo non ha più niente di spirituale ma è soltanto la pelle levigata dell'attrice o la pelle oliata dell'atleta qualcosa di assolutamente perfetto nella sua materialità tant'è vero che spesso dobbiamo dirlo con tristezza appena aprono bocca questi corpi riusciamo a vedere qualcosa si annidi dietro cioè si annida veramente la riduzione che è la grande pena che il salmista attribuisce a quelli che adorano gli idoli che diventano come gli idoli cioè non hanno si riducono ad essere solo materialità ebbene noi nel corpo vediamo invece passare il filo della basar che ho ricordato prima cioè della fragilità anche della polvere se volete l'uomo è una creatura fragile e delicata vediamo passare però entrare la ruach il respiro di dio che è il principio della vita è quello che fa sì che questa polvere diventi creatura vivente ma anche l'animale è attraversato da questo respiro di dio tant'è vero che giustamente si fa notare che questo respiro questo spirito non è l'anima nel senso in coelet per esempio al capitolo dodicesimo al versetto 7 quando si dice che l'uomo muore che cosa si dice si dice badate bene è stato letto poi in chiave immortalista ma non è questo il senso ritorni la polvere crea la terra come era prima e la ruach torni a dio che l'aveva data cioè il principio vitale ritorna a dio che è il creatore mentre l'uomo ritorna nella polvere nel capitolo terzo di coelet secondo la tradizione biblica si ricorda che non c'è nessuna differenza tra la ruach nostra e quella degli animali perché entrambi una volta che noi precipitiamo nella polvere della morte entrambi non abbiamo più questo principio vivente che dio aveva immesso in noi quindi vedete che non può essere comparato lo spirito in quanto tale allo spirito greco all'anima e così via poi abbiamo nefesh nefesh che è tradotto spesso con anima nefesh in realtà e qui c'è proprio tutto una letteratura al riguardo in realtà nefesh è qualcosa di diverso e a questo proposito per poterlo spiegare io vorrei leggervi un esempio curiosissimo l'ho scelto così un po' quasi a caso perché nelle traduzioni che voi avete in mano non c'è la possibilità di capire con esattezza qual è il punto di partenza ma il punto di partenza ve lo indicherò io adesso mi basta che voi abbiate a tenere presente questa parola nefesh nefesh che è tradotto qualche volta con anima però meglio sarebbe tradurre la completezza dell'essere vivente l'essere vivente che è fatto di tutte quelle cose che dicevamo prima compreso il sangue anche compreso qualche altro elemento ebbene vi leggo questo è nel capitolo ventitresimo dell'esodo è il versetto nono non opprimerai lo straniero voi conoscete la vita dello straniero perché foste stranieri in terra d'Egitto e voi qui avrete capito che io voglio porre l'attenzione su quale parola la parola vita tra l'altro è un testo questo interessante dal punto di vista antico testamento del rapporto con lo straniero siete stati stranieri quindi voi conoscete che cosa vuol dire la vita ora se andiamo a vedere l'ebraico vita non c'è non c'è in ebraico la vita ma c'è il vocabolo nefesh ora nefesh che cosa vuol dire come significato primario come significato primario vuol dire gola la gola la gola del respiro tant'è vero che qualche dono lo collega appunto al termine egiziano anche se il collegamento è molto lato il termine nefer quello che ha dato origine alla parola per esempio che è la base nefertiti la famosa regina egizia nefer viene rappresentato nei caratteri geroglifici con un disegno che è la semplificazione della trachea e dei polmoni e nefer che cosa vuol dire bello buono perché perché è la vita tutto ciò che respira dà il segno mentre ciò che spegne il respiro è il segno del brutto del male dell'infelicità ebbene qui c'è la gola dello straniero ecco che cosa vuol dire allora se noi lasciamo il senso gola prima di tutto beh qui l'autore dice la gola è la fame la gola è la sete ecco fame sete è l'angoscia è l'oppressione che si radica nell'intimo di una persona schiava oppressa che si sente nella fatica giornaliera del vivere non diciamo anche noi un nodo alla gola per esprimere qualcosa che è psicologico è una metafora evidentemente ci stringe già al mattino al risveglio anche noi usiamo dire per esempio il respiro corto affannato che è segno di paura è segno invece di coraggio il respiro lungo o di quiete di pace vedete che perciò il punto di partenza è molto concreto è molto materiale tra virgolette però vedete che acquista un significato ulteriore la mia gola rappresenta la fame e la sete fisica però prendete il salmo 42 43 sono due salmi che sono da unire in realtà è uno solo bellissimo io lo considero forse il più bello di tutto il salterio il sicucervo desidera ad fontes aquaro come la cerva desidera le fonti d'acqua lì all'inizio voi vedete che tutto è giocato sull'anima mia che desidera il signore ma si dice che ha sete l'anima mia ha sete è la gola che ha sete innanzitutto del dio vivente ma la gola diventa espressione della intimità dell'interiorità vedete perciò era questo che io volevo dimostrare come la corporeità la materialità diventa in realtà continuamente parabola di ciò che è profondo nell'uomo e potremmo andare avanti così a parlare per esempio del significato e sarebbe molto bello questo ma naturalmente mi porterebbe lontanissimo parlare del volto parlare delle mani parlare degli orecchi parlare della bocca parlare degli occhi perché tutti questi elementi fisicissimi sono nella bibbia continuamente rappresentazione di qualcos'altro per cui vedete l'intreccio è costante io non ho mai l'uomo che è costituito da un grumo di cellule non ho mai l'uomo che è considerato purtroppo tante volte dalla medicina contemporanea dalla scienza contemporanea come se fosse solo un evento biologico l'uomo è sì un evento biologico ma questa biologicità sua è al tempo stesso è espressione della sua intimità è espressione di significati che sono ulteriori il servo del signore che voi tutti avete in mente che poi il cristianesimo leggerà come figura messianica il servo del signore cantato da Isaia in 50 versetto 4 nel capitolo 50 di Isaia il versetto 4 parla della sua vocazione e della sua personalità ma lo fa dicendo di avere una lingua da discepolo e un orecchio risvegliato e aperto dal signore guardate come descrive la vocazione con una lingua e un orecchio io ho la mia lingua che è stata è la lingua del discepolo che ripete le parole che ha sentito e il mio orecchio è continuamente svegliato all'alba e aperto dal signore per chi ascolti la sua parola il suo comando e così via ecco vedete come il corpo perciò e lo dobbiamo un po' recuperare questa dimensione il corpo è continuamente epifania di un mistero e qui siamo lontani allora riuscite a capire come siamo lontani è vero da una certa visione greca e anche da una certa visione come quella occidentale che ha o da un lato disprezzato il corpo oppure lo ha fatto diventare un idolo un idolo che però non rappresenta più nulla della sua intimità dell'interiorità quei corpi levigati che finiscono lì ecco per esempio vi do due testimonianze del mondo greco di quella opposizione che forse è stata anche un po' esagerata soma sema si diceva corpo tomba in greco giocando sulle parole soma vuol dire corpo sema tomba tomba dell'anima però sentite un po' cosa dice Aristotele nel protretico non abbiate paura si capisce abbastanza facile anzi anzi è curioso anzi è macabro persino nel rappresentare questo rapporto che gli sente come conflittuale tra il corpo la carne e l'anima diversamente come avete visto dalla Bibbia nel protretico Aristotele scrive si racconta che i prigionieri dei tirreni spesso vengono sottoposti alla tortura di essere legati vivi a cadaveri col viso contro il viso e le membra tenute insieme con le membra una cosa molto macabra una condanna terribile guardate l'applicazione che fa Aristotele allo stesso modo l'anima sembra distesa e incatenata a tutte le membra sensibili del corpo quindi vedete l'anima che è la vita il corpo che è la morte l'anima disperata che è lì legata a questo stramaledetto corpo da cui vorrebbe liberarsene infatti con la morte ecco che la cultura greca insegna l'immortalità dell'anima non certo la resurrezione della carne o dei corpi e qualcosa del genere è entrato nella Bibbia è entrato naturalmente in un'opera la più tarda possibile quella più vicina alla cultura greca anche se in realtà poi tutto il resto del messaggio di questo libro intendo riferirmi al libro della sapienza si muove in tutt'altra direzione riflette sotto il greco ancora la concezione unitaria biblica nel capitolo nono al versetto 15 del libro della sapienza leggiamo che il corpo appesantisce l'anima la nostra tenda d'argilla grava la mente dai molti pensieri e qui sentite l'eco della cultura greca che questo autore aveva probabilmente respirato come si ipotizza ad Alessandria d'Egitto dove il libro viene composto una città di grande cultura cultura ellenistica e lì lui aveva sentito queste tesi e in qualche modo le riflette a questo punto dopo aver esaurito questa specie di viaggio breve nella pelle nella corporeità dell'uomo visto però come simbolo visto però come segno a questo punto io penso che sia molto utile passare al nuovo testamento perché il nuovo testamento a questo riguardo ci dà veramente una riflessione che è quasi sistematica ed è veramente decisiva per dare significato al corpo e il punto di partenza evidentemente io mi muoverò adesso facendo tre considerazioni e queste tre considerazioni saranno sostenute da altrettanto da una documentazione di tipo biblico di tipo neotestamentario la prima considerazione me la dovreste quasi idealmente fare tutti voi dovrebbe essere la considerazione primaria appena si entra al nuovo testamento qual è il mistero centrale del nuovo testamento quelli anche che non sanno granché di teologia però sanno quando sentono questa parola che non è purtroppo adesso viene deformata anche attraverso qualche contaminazione con le culture orientali dell'India e così via la termine il termine fondamentale che descrive in maniera sintetica il mistero centrale del cristianesimo è l'incarnazione e lì avete chiaro la parola carne che è formulata come ben sapete in quella maniera così possente così grandiosa da quel capolavoro in assoluto non solo spirituale ma anche letterario non solo teologico ma anche letterario dell'umanità che è il prologo di Giovanni quando nel capitolo primo al versetto decimo quarto del Vangelo si legge cai o logos sarx e geneto il logos perfetto infinito divino eterno si fa carne diventa carne e carne noi sappiamo che nel linguaggio normale anche della cultura greca era quanto rimandava alla fragilità alla debolezza al limite e se volete voi potete continuare a vedere che il Cristo che è continuamente sì il figlio di Dio però è continuamente altrettanto continuamente rivestito dal peso della carnalità pensate soltanto alla solo per fare un esempio andiamo dalla nascita che è ricordata in pratica il logos che diventa sarx è anche la nascita di Cristo facciamo il salto e andiamo a finire la morte e la morte voi vedete che è proprio la rappresentazione della frontiera ultima la carne non è eterna la carne si dissolve la carne è immersa nel tempo e nello spazio la carne vuol dire soffrire ecco la passione vuol dire avere sete e Cristo in croce ha la gola riarsa vuol dire perdere sangue sudore di sangue e così via Cristo stesso in quel famoso discorso della sinagoga di Cafarna o nel capitolo sesto di Giovanni ripetutamente quando invita il credente a entrare in comunione con lui che espressioni usa usa espressioni che sono pesantemente orientali se volete che avrebbe potuto parlare se noi ora usassimo un'equivalenza diremmo entrare in comunione profonda intima totale con la sua persona mentre egli dice se ricordate è vero mangiare e bere la carne nel sangue mio è lo spirito che dà la vita la carne non giova nulla poi dopo egli aggiunge perché questa espressione è per ricordare proprio che da un lato abbiamo bisogno lo spirito ha un tutt'altro significato in questo caso abbiamo bisogno dello spirito di Dio lo spirito santo che riesce a dare consistenza ed eternità non morirà mai in eterno colui che mangia di me che dà consistenza alla carne che non giova nulla e lei è la fragilità della carne che però è rappresentata proprio attraverso la carne e il sangue che egli offre al credente per indicare la comunione con la sua persona ma e questa è la seconda considerazione che vorrei fare dopo la prima sull'incarnazione che può essere arricchita all'infinito come ben immaginate direi anche che Cristo e il Nuovo Testamento con essi i Vangeli soprattutto si preoccupano molto del corpo nostro della nostra fisicità non soltanto celebrano la corporeità del Cristo perché è il segno dell'incarnazione il segno del Dio che entra nell'interno dell'umanità che non rimane sopra che non si china soltanto ma che cammina con l'uomo diventando compagno di viaggio ebbene la fisicità evangelica è visibilissima la fisicità umana che riguardano l'uomo è visibilissima nell'interno di una considerazione che tutti possono fare la considerazione sullo spazio che nei Vangeli hanno i miracoli pensate dal punto di vista statistico vi leggo due dati statistici Marco prendiamo il Vangelo di Marco che è il più attento ai miracoli i miracoli occupano sui 666 versetti dell'intero Vangelo occupano 209 versetti e che vuol dire il 31% ma secondo dato statistico se noi escludiamo il racconto della passione morte e ressurrezione e prendiamo la vita pubblica di Cristo su 425 versetti che raccontano ciò che Cristo ha fatto passando in mezzo a noi vivendo con noi 425 209 sono dedicati alle guarigioni il che vuol dire il 47% metà della vita di Cristo è stata guarire è stata avere a che fare con i malati interessarsi dei corpi si è vero poi chiedeva la fede eccetera lo sappiamo però intanto cominciava a partire dai corpi e anzi uno studioso un teologo canadese che tra l'altro è stato anche quando ero giovane molto giovane facevo l'università è stato mio professore un teologo canadese molto noto René Latourel nell'interno di un suo saggio dedicato ai miracoli ha usato una battuta che è veramente significativa anche se è una battuta il Vangelo senza i miracoli sarebbe come l'amleto di Shakespeare senza il principe non è possibile rappresentare un dramma questo dramma di Shakespeare senza avere appunto questa presenza i miracoli sono fondamentali e c'è un miracolo che io vorrei ricordare in maniera particolare in questa seconda considerazione che sto facendo un miracolo che ha un rilievo particolarissimo ed è il miracolo della guarigione dei lebrosi perché ecco prendiamo solo un esempio vi leggo un versetto soltanto di Marco 1.41 è Marco 1.41 nell'interno di questo versetto noi abbiamo Cristo che va incontro a un lebroso mosso a compassione stese la mano lo toccò e gli disse lo voglio guarisci naturalmente questo comportamento che viola le norme della purità rituale ebraica il lebroso doveva stare a distanza segnalava lui stesso secondo il libro del Levitico di essere immondo e quindi come tale non poteva quasi a distanza trasmetteva il suo inquinamento che per quella concezione del corpo che ho detto prima non era soltanto un inquinamento fisico una malattia fisica e si riteneva che avesse anche peccato per quel rapporto profondo tra corporeità e intimità se tu hai una malattia così grave ricordate queste concezioni della teoria della retribuzione dell'Antico Testamento e sei anche il peccato ebbene Cristo invece vedete prende tra le mani inquinandosi prende tra le mani il corpo dell'umanità malato i lembi cadenti e feriti i lembi persino contaminati e pronti a generare male attorno a sé aspirare quasi come una specie di epifania di male attorno a sé di sofferenza prende e li assume su di sé Moriac nel 1922 pubblicherà quel romanzo che ha come punto di partenza proprio questo episodio e lo intitolerà Il bacio del lebroso in realtà tra l'altro immagine che entra anche nell'annunzio a Maria di Clodel Il bacio del lebroso Francesco nella tradizione popolare anche ecco questo legame col corpo vedete non semplicemente col corpo perfetto ma anche col corpo in tutto il suo peso in tutta la sua tragedia anche e la lebra se vogliamo capire di più il valore di questo gesto di Cristo cercando di creare la stessa atmosfera la stessa connotazione che provava l'ebreo quando sentiva questa parola dovremmo dire che era l'equivalente dell'AIDS di oggi e Cristo perciò vedete prende tocca questo malato quindi entrando in sintonia profonda in simbiosi con la corporeità in tutte le sue forme compresa la sua forma tragica ecco la terza e ultima considerazione che voglio fare la terza considerazione invece è quella che ci sposta a un livello ulteriore in questa riflessione sulla teologia del corpo il corpo nell'incarnazione di Cristo i nostri corpi assunti guariti curati considerati preziosi da Cristo tant'è vero che dedica metà della sua vita a curare malati terzo la teologia del corpo diventa ancora più alta quando andiamo in Paolo ecco Paolo naturalmente ha una teologia molto sviluppata che non possiamo comprimere nell'interno di questi pochi minuti però possiamo certamente farla balenare e io lo farò attraverso una sequenza di testi che hanno una mutevolezza per cui vi fanno vedere tanti aspetti del pensiero di Paolo a questo riguardo cominciamo partendo da prima Corinzi 6 e vi leggerò i versetti 13 e 19 di prima Corinzi 6 Paolo dice ai cristiani di Corinto il corpo il corpo non è per l'impudicizia ma per il Signore e il Signore è per il corpo vedete perciò questo nesso profondo di intimità che c'è tra il nostro corpo e Dio stesso è Cristo e questo perché per quella concezione che abbiamo detto prima del corpo il corpo come segno della persona per cui Paolo dice quando tu dai il corpo alla prostituta non è soltanto non è una questione come qualche volta viene detto anche anzi viene qualche volta più che qualche volta normalmente concepito nella nostra cultura erotizzata per esempio quando tu compi un atto sessuale con una prostituta o con un'altra persona tu semplicemente fai un'attività di tipo fisiologico esprimi delle pulsioni sessuali casomai anche delle pulsioni psicologiche ma non molto di più e no invece se a un certo momento tutto l'essere dell'uomo è considerato perché tu in quel momento coinvolgi tutto te stesso ebbene quell'atto diventa un atto che Paolo subito dopo dice sacrilego perché nel versetto 19 dice e guardate quanto è importante questa dichiarazione non sapete che il vostro corpo è tempio dello spirito santo che è in voi e qui facciamo un salto ulteriore l'essere della creatura umana diventa una specie di grande presenza la presenza del divino una presenza che è superiore a quella del tempio materiale tant'è vero che anche Pietro dirà nella sua lettera nella sua seconda lettera dirà che il tempio è fatto di pietre vive e le pietre vive sono i credenti che hanno come basamento il Cristo ecco quindi una prima considerazione il corpo cioè tutta l'esistenza della creatura umana dovrebbe riflettere manifestare Dio perché dentro di essa c'è come questa presenza in ostensorio cioè in manifestazione ancora un altro testo passo in avanti Romani 12 1 offrite i vostri corpi come sacrificio vivente santo gradito a Dio e questo è il vostro culto spirituale di solito si traduce in greco abbiamo logichen latreian che si può tradurre in tante maniere comunque qualcosa di spirituale certamente vedete il contrasto paradossale offrite i vostri corpi e diventano il sacrificio spirituale ecco allora un secondo una seconda indicazione di Paolo il culto vero è quello della vostra vita della vostra esistenza che si manifesta attraverso tutte le azioni attraverso tutta la quotidianità corporale ma terzo testo che voglio citarvi Paolo è fermamente convinto che il corpo ha qualcosa anche di negativo nell'interno il corpo porta in sé la sarx la carne che per Paolo non è la fragilità nostra il morire l'essere caduci caduchi l'essere affidati alla debolezza no per Paolo è il principio del male la carne è qualcosa di molto simile a un'energia che è dentro di noi e che si irradia nel nostro corpo cioè nella nostra esistenza ed è coloro che abbiamo espressioni come chi mi libererà da questo corpo di morte corpo di morte o ancora questo è romani 7 24 o i romani 6 6 il corpo del peccato e Paolo dirà c'è un vivere secondo la carne che è sicuramente contro il vivere secondo lo spirito di Dio ma naturalmente questo vivere secondo la carne vuol dire vivere secondo il peccato vedete perciò che abbiamo un contrasto da un lato c'è la grandezza del corpo il corpo che può diventare manifestazione Dio presenza come un tempio il corpo che diventa il grande culto che noi celebriamo ma anche il grande mistero oscuro del corpo nel quale alberga anche il non Dio alberga anche Satana alberga anche il peccato e allora vedete che in questa prospettiva il cristiano vive un'esperienza lacerante che Paolo rappresenta nel capitolo settimo delle lettere romani quando l'uomo sente nell'interno della sua carne del suo corpo tutto lo splendore del bene ma sente anche tutto il peso della carne del peccato ma e questo è l'ultimo orizzonte che Paolo fa vedere che il nuovo testamento aveva già presentato con Cristo il punto d'arrivo è quello che Paolo definisce con un'espressione che per i greci era assolutamente un assurdo nella prima lettera dei Corinzi capitolo quindicesimo versetto 46 Paolo parla di un soma pneumaticon cioè di un corpo spirituale e questo cosa vuol dire un corpo spirituale per i greci era impossibile il corpo è materiale l'anima è nell'interno imprigionata il corpo spirituale per Paolo è invece quel corpo nel quale la sarx il peccato viene vinto ed entra lo spirito santo lo spirito del Cristo risorto e questo corpo è il corpo della gloria è il corpo della resurrezione della carne è il corpo di Cristo è quell'orizzonte verso il quale converge anzi Paolo dirà tutto il creato tutta la materialità tutta la creazione anch'essa è destinata ad entrare in un'armonia nella quale non ci sarà più morte nella quale non ci sarà più il tempo il tempo che indica una fine nella quale non ci sarà più lo spazio che indica un limite noi ormai entreremo come il Cristo glorioso nell'infinito e nell'eterno dove tutto l'essere e non soltanto un brandello di noi non solo la parte nobile l'anima ma tutto l'essere dell'uomo e tutto l'essere del creato sarà ricomposto in un'armonia superiore suprema mirabile ecco abbiamo fatto un lungo viaggio veloce se volete nell'interno del corpo così come la Bibbia ce lo presenta io vorrei a questo punto finire come siamo soliti fare con una meditazione con una riflessione che è necessaria perché a questo punto voi vedete che il corpo acquista un significato particolare ma naturalmente non il corpo materiale in sé considerato il corpo in quanto è luogo nel quale si celebra un mistero si celebra il mio mistero cioè il mistero di quello che sono io nel segreto profondo di me stesso e si celebra anche il mistero di un Dio che incontra noi nell'interno del nostro corpo che incontra noi nell'interno della nostra esistenza non c'è nulla di inutile perciò nella vita di una creatura non ci sono soltanto alcuni spazi spirituali particolarmente o parti spirituali particolarmente alti è tutto che viene santificato ed è per questo che allora veramente potremmo definire come diceva Turoldo in una sua poesia definire il corpo come scialuppa che ti salva sull'oceano del nulla nostro corpo cattedrale d'amore non soltanto perché noi siamo capaci d'amore ma anche perché in questa cattedrale si manifesta l'amore di Dio ma voglio finire ho detto una piccola meditazione con una voce non cristiana perché questa voce non cristiana ci permette di pregare di ringraziare Dio per il corpo che abbiamo ricevuto corpo non destinato ancora lo ripetiamo ad essere soltanto considerato come una realtà da nutrire come una realtà da curare soltanto non come una realtà fatta di tante cellule non dicevo come un evento biologico ma fatto come realtà concreta che continuamente ha dentro di sé tutto il mistero della creatura il mistero della redenzione dopo tutto anche noi quest'oggi non avremmo potuto pensare parlare ascoltarci parlare di cose anche alte se volete parlare anche dello spirito e non lo potremo mai fare non lo potremo mai fare se non avessimo se io non avesse un corpo che in questo momento sta comunicando con voi e voi aveste per esempio non aveste quelle orecchie che ascoltano e forse anche che non soltanto sentono ma ascoltano in profondità questo canto è di un poeta indiano facile un poeta non tra i sommi ma che è spiaciuto tanto all'occidente perché ha fatto un po' da ponte e ha di fatti si è interessato molto anche della figura del Cristo ha parlato spesso di Cristo restandone anche un po' conquistato questo poeta che è Tagore il quale prega così e questa sua preghiera la mettiamo a noi a conclusione della nostra meditazione che è stata invece squisitamente biblica Signore mi hai fatto senza fine secondo la tua volontà questo fragile vaso continuamente tu vuoti e continuamente tu lo riempi di vita sempre nuova questo piccolo flauto di canna hai portato per valli e colline attraverso esso hai soffiato melodie eternamente nuove quando mi sfiorano le tue mani immortali questo piccolo cuore e questo corpo si perdono in una gioia senza confini e cantano melodie ineffabili su queste mie piccole mani scendono i tuoi doni infiniti passano l'età e tu continui a versare e ancora c'è spazio da riempire